buongiorno insomma è iniziato malissimo piove, diluvia, quindi no, diluvia non ancora però le previsioni del meteo non promettono benissimo quindi bisogna capire se oggi riusciamo a vedere le partite o meno e speriamo Francesco prende i tossi i tossi tombini, vedete che c'è la mano stabile di un dinosauro quindi aggiorneremo su cosa riusciamo a fare benvenuti nel secondo episodio del traffico di Roma per fare 12 minuti di strada oggi ce ne servono 36 bello, qua intanto aumenta dopo 20 minuti siamo ancora a 31 25 minuti forse benissimo oh mamma, oh mamma le 8.41 ci stiamo avvicinando infianibile Francesco con i crampi alla gamba allora questa settimana è solo la quarta volta che vedo questo piano alberato bellissimo eh ma non lo sopporto più vuoi dire qualcosa a riguardo di questa mattinata difficile? non ce la faccio più non ce la faccio più oddio, oddio allora ragazzi ora fermo queste cose scusate? dove vai? eh, dobbiamo fare il giro lo sai, il contromano non si può andare no vabbè io sono fatto tutto il tempo contromano lo so è tre giorni che faccio lì morta allora ora vi faremo una live perché io gli ho detto a Fra partiamo prima altrimenti non troveremo mai parcheggio ora vi faccio vedere cosa troveremo alla diva non c'è parcheggio Federica c'aveva ragione non è vero ah no c'è la smart vabbè un'ora per arrivare un'ora per cercare parcheggio ecco e vai dai vai 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 campione ospite speciale di questa edizione quindi mettevo la venta ma non la metteva otto giorni ma c'è l'etichetta in questo ma va bene sto facendo questa ha lasciato l'etichetta sull'ombrello tu sei proprio strano tu sei proprio strano fa diluviando le biglietterie hanno deciso ufficialmente di non aprire neanche perché perché che gli frega ci siamo rifugiati a coni piscine a speranza che smetta di piovere forse allora intanto sono le nove e mezza e ha smesso un pochino di piovere cioè in questo momento non piove quindi entriamo e vediamo ma non puoi prendere il prossimo cosa? ah ci sono io i tuoi sparring si lamentano come mentre recensioni di questa brioche? passi buonissima non sarà la posta l'ultima non lo so esatto prima dell'età la cosa meno costosa di questi stand ma la più buona non lo so 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 è non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ma se non ci fossi io? Sbanfa di mortazza. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.